Il salotto letterario di Cada Sanremo, Cada Sanremo Writers, si accomoda con noi e diamo il benvenuto a Paolo Boccia. Benvenuto Paolo! Ciao Lucio! Tu sei stato selezionato, questo bisogna sempre sottolinearlo a quelli che sono i nostri amici che ci ascoltano, sei stato selezionato per l'appuntamento con Cada Sanremo Writers 2024 con il tuo libro che si intitola Dal mio punto di vista. Esattamente, hai precisamente indovinato. Stavo leggendo, però una cosa volevo chiederti, adesso sono curioso, lo diciamo, cogliamo l'occasione anche per dirlo perché magari in questo modo ci poniamo all'ascolto in maniera giusta, perché tu dici dal tuo punto di vista in realtà è un po' secondo me riferito anche al fatto che tu sei un non vedente, giusto Paolo? Esattamente, io non vedo, sono cieco perché all'età di 16 anni ho avuto un incidente con la moto, quindi prima ero vedente, ho avuto un incidente con la moto e ho perso la vista totalmente per la rottura completa e la lesione completa dei nervi ottici. Quindi questo libro, come tu mi anticipavi, è un'autobiografia? Sì, è un'autobiografia che però viene definita motivazionale perché penso che in qualsiasi avversità nella vita di qualsiasi genere, qualsiasi tipo, piccola, media o grande, si possa reagire e si possa avere addirittura delle opportunità, cosa che poi è successa a me. E quindi mai, mai, mai demolarizzarsi e stare sempre in una linea positiva. È un libro che è servito a te probabilmente per un fatto, come dici tu, automotivazionale, però poi può servire a qualcuno perché leggendo questa autobiografia può così aiutarsi magari a superare dei momenti, come nel tuo caso, estremamente difficili. Sì, sì, assolutamente sì. Se c'è un ostacolo bisogna affrontarlo o bisogna girarlo. Se c'è una buca e cadiamo bisogna rialzarsi e continuare a camminare e così via. È per questo che viene definito motivazionale perché la mia vita è un po' come un film, è stata così fino adesso ed è un film pieno di ostacoli, pieno di problemi, pieno di situazioni avverse che però sono sempre state risolte, affrontate, superate e poi si sta bene perché poi alla fine si sta bene. Per concludere, in questo senso io dico sempre che la vita è bella, bisogna viversela ogni istante, ogni momento, ogni minuto e quindi è per questo che penso sempre in positivo. Paolo, quando è che hai sentito l'esigenza o hai pensato a un certo punto che scrivere sarebbe stato un modo per aiutarti e automotivarti come tu ci hai raccontato? Ma quando intorno a me più persone mi dicevano di scrivere un libro io pensavo di non essere in grado e poi invece buttando giù due, quattro, sei, dieci libri ho visto che è venuto anche parecchio bene. E allora volevo fare una cosa un po' originale, cioè diversa dal solito libro senza togliere nulla, a nessuno ci mancherebbe altro, non mi permettere mai, ma è venuto una cosa molto interessante che è stata sia per me motivazionale, però come hai detto giustamente te, giustamente come hai detto bene in precedenza, poi in realtà è motivazionale per tutti, ma proprio per tutti, dal piccolo al grande problema. Perfetto, è una cosa veramente molto interessante perché poi è una cosa vera, quando si parla di audiobiografie sono delle esperienze vissute profondamente che possono sicuramente non soltanto aiutare chi ha scritto il libro come tu, poi che anche ci ricordavi, ma sicuramente anche le altre persone. Ti faccio una domanda che è una curiosità, tu si sente dall'accento... che sento un pochino, un pochino, si sente con le città abiti tu Paolo. Allora io abito a Firenze, però come dico sempre Lucio, io parlo fiorentino ma sono di origini meridionali. Ah caspita vedi, perché voglio dire la famiglia è meridionale. Sì, papà era napoletano e la mamma abruzzese, quindi come dire, io dico sempre che nel mio sangue scorre il meridione al cento per cento. Paolo Boccia, il libro si intitola Dal mio punto di vista. Paolo, ti aspettiamo a Sanremo naturalmente dove ci racconterai ancora più di te e naturalmente di questo libro che sicuramente sarà importantissimo e mi permetterà di dire anche molto utile, va bene? Io ti ringrazio molto e come dico sempre, ci sentiamo ma ci vediamo. Grazie Paolo! Grazie a te.